Gianni Morandi ha stupito i passeggeri di un volo di linea con un concerto insolito e memorabile. Mentre si trovava a bordo dell'aereo, Morandi ha preso l'altoparlante solitamente utilizzato dalle assistenti di volo e ha annunciato di voler fare qualcosa di straordinario. Ha quindi iniziato a esibirsi intonando alcune delle sue canzoni più famose, tra cui c'era un ragazzo. L'articolo completo lo trovo in descrizione. C'è un grande prato verde dove nascono speranze, le sapete tutte, che io voglio per me le due paese. Bravo, bravo!